partiamo con la posizione di su casa usiamo un certo numero di coperte per fare in modo che quando siamo seduti le nostre ginocchia e gli inguini siano alla stessa altezza più l'articolazione del bacino rigida più dovremo aumentare l'altezza delle coperte predisponiamo bene i piedi sotto le ginocchia e usiamo le braccia per estendere i dati del torace senza sollevare le spalle appoggiamo il palmo delle mani sulle gambe senza perdere l'altezza del torace e lentamente giriamo il palmo delle mani verso l'alto lasciando le dita delle mani rilassate continuiamo ad estendere dei lati del torace teniamo gli occhi chiusi la bocca leggermente socchiusa usiamo questa fase per poter percepire innanzitutto la nostra presenza a livello del corpo del respiro e di sentirci al centro dello spazio in cui andremo a praticare la nostra sequenza di yoga poi lentamente usciamo dalla posizione sempre utilizzando la posizione di su casa con le gambe incrociate iniziamo a fare adesso delle torsioni portiamo sul braccio sinistro portiamo il dorso della mano sinistra all'esterno il ginocchio destro e poi andiamo a portare il braccio destro dietro di noi appoggiando direttamente a terra sulle coperte portiamo verso destra manteniamo il naso in linea con lo sterno cerchiamo di percepire dove si trova la verticalità della colonna cerchiamo di mantenere questo assi verticale e di ruotare intorno all'asse torniamo al centro portiamo sul braccio destro e andiamo a portare il dorso della mano destra all'esterno del ginocchio sinistro la mano sinistra appoggia sul pavimento sulle coperte manteniamo la rotazione della mano sinistra verso sinistra così da aprire bene la spalla sinistra e portare indentro la scapola sinistra ricordiamoci di non portare in su le spalle ma di mantenere le spalle lontane dalle orecchie al contrario continuiamo a estendere le lati del torace verso l'alto e portare lo sterno su verso il mento torniamo al centro distegniamo le gambe brevemente poi facciamo un momento un altro incrocio e ripetiamo momento a destra quando si lavora con lo yoga si cerca la massima simmetria e pertanto tutto deve essere fatto in realtà che il lato destra e sinistro presenti esattamente la stessa situazione quindi avendo un incrocio delle gambe dovremo cambiare l'incrocio e fare esattamente il lato destra e sinistra con il nuovo incrocio ci accorgeremo che probabilmente non siamo simmetrici e che esiste un lato più flessibile dell'altro probabilmente troveremo anche che le ginocchia non saranno disposte nello stesso modo quando cremo lato destra e sinistra al centro sempre con le gambe incrociate facciamo la posizione di parva tasana quindi incrociamo le tue delle mani portiamo il palmo delle mani in avanti e andiamo su apriamo bene il palmo delle mani ed estendiamo le lati del torace il palmo delle mani deve essere perfettamente ruotato verso il soffitto torniamo giù cambiamo l'incrocio delle dita riapriamo il palmo delle mani verso in avanti e riportiamo sulle braccia ruotando bene il palmo delle mani verso il soffitto usiamo questa posizione proprio per estendere verso l'alto e creare estensione lungo la colonna vertebrale anche qui per simmetria cambiamo l'incrocio delle gambe e ripetiamo incrociamo dietro delle mani prendiamo aria esalando andiamo su e stendiamo ricordiamoci di mantenere i pollici a contatto e i polsi che hanno un movimento un'azione di allontanarsi gli uni dagli altri nuovamente torniamo giù e cambiamo l'incrocio delle dita delle mani saliamo verso l'alto estendiamo e poi lentamente riportiamo le braccia giù e sciogliamo la presa delle mani adesso ci prepariamo per la posizione di subta padangustasana quindi siamo sdraiati a terra e con le gambe piegate mettiamo una cintura sotto il piede destro distendiamo la gamba destra tenendo le braccia completamente distese e le spalle verso il pavimento sotto la testa abbiamo una coperta dell'altezza giusta in maniera tale che la testa non ruota l'indietro e poi estendiamo anche la gamba sinistra la gamba destra deve essere verticale ma se il ginocchio si piegasse come mostrato meglio portare la gamba un po più verso il pavimento quindi all'inclinazione inferiore ma di mantenere comunque l'estensione del ginocchio destra anche la gamba sinistra è completamente distesa il piede sinistro è verticale e entrambe le ginocchia vengono richiamate verso il bacino ricordiamoci di mantenere le scapole bene in dentro di portare le spalle lontane dalle orecchie usciamo dalla posizione ritroviamo la simmetria dando un'occhiata e poi mettiamo la cintura sotto il piede sinistra estendiamo inizialmente la gamba sinistra lasciamo che le mani scivolano sulla cintura in maniera tale che le braccia rimangono completamente distese e le spalle rimangono ben aderenti al pavimento da qui distendiamo anche la gamba testa ricordiamoci che anche la gamba che è lungo il pavimento deve avere la massima consapevolezza quindi in questa posizione entrambe le gambe operano nello stesso modo salvo il fatto che la gamba che è verticale riceveva un'azione dall'alto verso il basso attraverso la cintura quindi sarà più facile portare la testa del femore bene ed incernierarsi nel suo acetabolo pieghiamo la gamba a destra pieghiamo la sinistra ritorniamo con le gambe piegate ci prepariamo adesso a fare adho mukha virasana in questo caso usiamo dei blocchi ma come abbiamo visto anche in altre lezioni possiamo usare una sedia i blocchi hanno il vantaggio di poter poi modulare l'altezza dell'appoggio delle mani in differenti modi quindi in differente altezza le ginocchia sono leggermente varicate e gli aldos a contatto è importante mantenere le natiche in appoggio sui talloni qualora non fosse possibile come mostrato adesso nel video usiamo una coperta fra i talloni e le natiche una o più coperte quelle che sono necessarie per poter rimanere bene in appoggio le natiche sul supporto dietro in quanto questo appoggio è fondamentale per poter creare poi estensione in avanti e quindi creare elongazione lungo la colonna vertebrale l'appoggio sui mattoni delle mani è in questo caso direttamente con il palmo delle mani rivolto sul bordo del mattone le dita si allungano in avanti mentre però le dita si allungano in avanti le braccia si distendono le spalle resistono lontane dalle orecchie cambiamo adesso appoggio delle mani sui mattoni mettendo le mani di taglio e ruotando anche leggermente i pollici verso l'esterno in questo modo sentiremo una maggiore azione di apertura sulla parte alta del dorso zona dove normalmente si creano grosse tensioni manteniamo le orecchie a livello delle spalle e delle braccia nella tratta che quindi il tratto cervicale sia il prolungamento del tratto dorsale manteniamo l'addome rilassato cerchiamo di portare l'ombelico leggermente verso il soffitto come dicevo grazie mattone possiamo cambiare l'altezza e quindi adesso abbassare però se abbassando dobbiamo incurvarci troppo rimaniamo con i mattoni alti o direttamente con le mani sulla sedia adesso lentamente usciamo dalla posizione ritorniamo la domuca mi rasano adesso appoggiando le mani a terra e usiamo questa posizione per la partenza di adho mukha svanasana quindi portiamo le spalle sopra le mani le mani sono ben aperte sul pavimento giriamo i piedi torniamo indietro e mantenendo le mani e le braccia stabile distendiamo prima su un po le ginocchia continuiamo l'estensione del gusto e infine completamente distendiamo le gambe piedi non necessariamente toccano con il tallone sul pavimento ma cercano comunque la parte posteriore della gamba dagli schi fino ai talloni cerca di estendersi completamente per trovare comunque con il tallone di avvicinarsi più possibile al pavimento camminiamo in avanti verso le mani teniamo i piedi alla larghezza del bacino mantenendo i piedi dritti in avanti evitando quindi portare i piedi all'esterno se non tocchiamo il pavimento possiamo afferrare i gomiti mani sui fianchi guardiamo in avanti e veniamo su tadasana tappetino adesso perpendicolare alla parete direttamente accanto alla parete gamba destra verso la parete una ventina di centimetri separato dalla parete ruotiamo il piede destro all'esterno piede sinistro all'interno grande distanza per i piedi ci allunghiamo andiamo a portare la mano destra in alto sulla parete mentre il braccio sinistro si estende verso il centro della stanza successivamente portiamo giù il braccio destra e portiamo sul braccio sinistro andiamo quindi nella posizione di triconasana ricordiamoci di aprire il torace di ruotare bene le spalle ma in tale che le due spalle siano perpendicolari e quindi orientate nella linea verso il soffitto torniamo su giriamo i piedi uniamo i piedi e giriamoci dall'altra parte quindi adesso faremo la stessa posizione verso sinistra quindi possiamo vedere la posizione anche della parte posteriore del corpo il piede sinistro ruota completamente i 90 gradi all'esterno il destro ruota leggermente all'interno estendiamo e andiamo a toccare la parete più in alto possibile andiamo appoggiare l'unico l'orecchio vicino al braccio e successivamente scendiamo con la mano sinistra verso la tibia sinistra portiamo su il braccio destra conteniamo allontanare le braccia in maniera tale da aprire il torace manteniamo la testa frontale senza girarla torniamo su alleniamo i piedi e chiudiamo le braccia ripetiamo adesso la posizione triconasana ma usando la parete per il piede più osteriore adesso avremo il piede destro appoggiato alla parete giriamo il sinistro in 90 gradi all'esterno e ci allunghiamo a sinistra andiamo appoggiare la mano sulla tibia e portiamo su il braccio l'appoggio del piede dietro la parete serve per rendere consapevole la parte posteriore del corpo in maniera più attiva se vogliamo portare la mano sul pavimento o su un mattone dobbiamo essere in grado di verificare se la direzione del torace rimane corretta quindi con le spalle verticale una sopra l'altra prendiamo aria esalando veniamo su alleniamo i piedi e ruotiamo per fare l'altro lato abbiamo iniziato col piede sinistro quello frontale e adesso avremo il piede sinistro la parete in genere si mantiene sempre l'inizio col piede destro ma in questo caso per ragioni di far vedere il video inizialmente sul lato frontale abbiamo fatto inizialmente il lato sinistro quindi adesso abbiamo il piede sinistro la parete il piede destro verso il centro della stanza possiamo continuare a scendere con la mano destra e portare sul braccio sinistro sempre che la posizione rimanga con le spalle verticali senza che la parte frontale del busto si affacci verso il pavimento continuiamo a spingere col bordo del piede sinistra sulla parete da qui poi torniamo su alleniamo i piedi e riusciamo dalla posizione da d'asana al centro del tappetino facciamo un salto o apriamo semplicemente le braccia le gambe arriviamo a una posizione di grande distanza tra i piedi piedi paralleli portiamo sulle braccia estendiamo il latte del torace mantenendo questa estensione mettiamo le mani sui fianchi portiamo la testa leggermente indietro e poi veniamo giù portando il busto parallelo al pavimento e appoggiamo le mani direttamente sotto le spalle prasarita padottanasana se non riusciamo a mantenere il busto parallelo al pavimento usiamo sotto le mani dei battoni da qui adesso ci allunghiamo in avanti senza però venire in avanti con il bacino quindi i talloni e natiche sono sullo stesso piano verticale appoggiamo soltanto la punta delle dita sul pavimento continuiamo a resistere con le gambe in maniera tale da poter creare estensione del busto adesso andiamo nella posizione finale di presare il tapadotta nasana portando le mani in linea con i piedi piegando i gomiti e appoggiando la testa sul pavimento se non è possibile appoggiare la testa sul pavimento possiamo usare un supporto tipo un mattone o una coperta per approggiare la sommità della testa se anche questo supporto non è sufficiente rimaniamo nella posizione precedente quindi con le braccia e il busto disteso in avanti per uscire riportiamo prima le mani sotto le spalle guardiamo in avanti uniamo leggermente i piedi e da qui appoggiamo le mani sui fianchi veniamo su con i piedi adesso alla larghezza delle anche estendiamo le braccia verso l'alto mettiamo le mani sui fianchi testa leggermente indietro e andiamo giù posizione di utta nasana anche se arriviamo bene sul pavimento usiamo solo la punta delle dita per fare in modo di portare le spalle verso il soffitto quindi i gomiti saranno leggermente piegati se non riusciamo usiamo sotto le mani le mattone oppure afferriamo i vomiti il collo si estende verso il basso la testa quindi vuol cercare il pavimento con la sommità della testa ma le spalle vanno nella direzione opposta si muovono verso il soffitto se abbiamo le mani a terra sui mattoni possiamo poi allargare le braccia quindi aumentare la distanza fra le mani sempre sulla stessa linea continuando a far salire le gambe le gambe devono essere molto distese le ginocchia su e da questa spinta delle gambe allungarci bene verso il pavimento lasciare che il collo si allunghi poi mani sui fianchi e veniamo su nuovamente ritorniamo nella posizione verticale prendiamo la coperta una o più coperte ci sediamo sopra la coperta e portiamo le gambe dritte in avanti per entrare nella posizione di Dandasana i piedi sono leggermente separati quindi le gambe mantengono la stessa larghezza del bacino portiamo sulle braccia facciamo in modo che la colonna si muova verso lo sterno mentre le braccia resistono in direzione alta dietro le orecchie riportiamo le mani sui fianchi riportiamo sulle braccia e alla fine ci allunghiamo verso i piedi se non fosse possibile afferrare i piedi mantenendo l'estensione alta della colonna usiamo la cintura e stiamo più alti quindi l'idea di questa posizione l'obiettivo non è tanto di andare a toccare i piedi quanto di creare estensione lungo la colonna quindi molto meglio usare una cintura se la presa sui piedi crea chiaramente difficoltà e l'incurvamento del dorso continuiamo a estendere verso l'alto la colonna quindi si eleva e si estende le spalle lontane dalle orecchie ruotiamo anche i bicipiti leggermente verso il soffitto da qui adesso togliamo la coperta e entriamo nella posizione di Dandasana direttamente sul tappetino pieghiamo la gamba a destra per fare la posizione di Janushirsasana se il ginocchio destro rimanesse molto alto possiamo mettere una coperta sotto il ginocchio stesso una o più coperte il tallone destro spinge sull'interno della coscia sinistra all'altezza del linguine braccio sinistro lungo il corpo estendiamo il braccio destro ed andiamo a prendere l'esterno del piede sinistro se anche questo non fosse possibile oppure dovessimo incurvarci troppo usiamo la cintura e rimaniamo più alti quindi la cintura è al piede sinistro e teniamo la cintura con la mano destra la mano sinistra è di lato il busto crea una leggera rotazione verso sinistra alla fine prendiamo la cintura con entrambe le mani oppure se siamo al piede afferriamo il piede con entrambe le mani ai lati del piede stesso continuiamo a estendere lungo la colonna le braccia sono distese e il movimento l'azione lungo il torace è quello di portare lo sterno in avanti verso il mento mentre le spalle continuano ad allungarsi verso il bacino le scapole in dentro la colonna si muove verso lo sterno poi veniamo su distendiamo la gamba destra passiamo nuovamente da Dandasana posizione con entrambe le gambe distese e pieghiamo la gamba sinistra solleviamo il braccio sinistro estendiamo il lato sinistro del busto e andiamo a prendere l'esterno del piede destro se non arriviamo con la mano direttamente possiamo usare la cintura cintura quindi al piede destro e cintura afferrata dalla mano sinistra il braccio destro è laterale continuiamo a estendere e a ruotare leggermente il busto verso destra poi prendiamo la cintura con entrambe le mani e quindi il busto ruota direttamente frontalmente verso la gamba destra pianchi, colonna, si estendono verso l'alto le spalle continuano a resistere verso il bacino se possiamo afferrare il piede direttamente con le mani andiamo a afferrare il piede con le mani sempre rispettando questa linearità dell'azione della lungola colonna quindi non ci incurviamo altrimenti rimaniamo con la cintura continuiamo ad estendere e i bicipiti ruotano verso il soffitto sempre per poter portare le spalle lontane dalle orecchie veniamo su aiutiamo la gamba sinistra a ritornare nella posizione distesa dandasana utilizziamo dandasana per estendere le gambe e riportare in verticalità la colonna vertebrale ci prepariamo adesso per fare shavasana la posizione di rilassamento usiamo una coperta o più coperte in generale l'altezza deve essere quella che in funzione della struttura del nostro dorso ci consente di avere la testa che guarda verso il soffitto il volto che guarda verso il soffitto e non ruotata all'indietro la testa e il collo sono sopra la coperta le spalle subono subito fuori dalla coperta stessa e sfiorano la coperta la posizione di shavasana è una posizione che facciamo cercando di rispettare la massima simmetria quindi le gambe sono separate alla larghezza del tappetino le braccia sono separate rispetto al busto le spalle continuano ad allontanarsi dalle orecchie è un punto importante che inizialmente nella posizione possiamo tenere gli occhi leggermente aperti per poter verificare guardando il soffitto se la testa rimane verticale successivamente possiamo chiudere gli occhi ruotare gli occhi leggermente in direzione dei polmoni così da poter mantenere l'attenzione e la consapevolezza il corpo senza portare troppa energia a livello del cervello e quindi dei processi cognitivi durante infatti la posizione di shavasana la coscienza si deve orientare ad essere una coscienza sensoriale il se testimone deve emergere in maniera tale da poter percepire tutto il corpo e qualsiasi sensazione interna ed esterna al corpo in un atto che avviene completamente nel presente possiamo rimanere in questa posizione a lungo alla fine comunque possiamo uscire inizialmente muovendo mani e piedi e poi piegando le ginocchia e ruotando sul fianco destro e poi lentamente con la testa che è l'ultima cosa che solleva teniamo su e sempre ad occhi chiusi mettiamo la testa orizzontale e apriamo gli occhi ci sediamo sulle coperte con le gambe incrociate e torniamo nella posizione di shavasana apriamo le braccia e uniamo il palmo delle mani al centro del cuore usiamo queste istanti per fare una breve meditazione oppure per allungare il periodo e fare una meditazione vera e propria usiamo l'appoggio del palmo delle mani fra loro per rinforzare la percezione del centro al centro del cuore respiriamo profondamente portiamo le braccia lungo il corpo namastè e che sono non ci sono per il tempo questo è un'opera che è stato spesso che ho sentito che ho sentito per l'altro la cosa è un'opera che ho sentito e che ho sentito